vai vai palomina vai dai bambini paloma vedi paloma ecco qua la paloma dei bambini la paloma con i suoi bambini ecco qua i bambini della paloma sono bellissimi eh bellissimi i bambini della paloma allora della paloma abbiamo tre femmine e un maschio vero? allora vediamo prima il maschione qua a pelo lungo eccolo qua bellissimo soprannominato anche due calzini uno due due calzini come balla con i lupi due calzini eccolo qua paloma poi vediamo questa femmina bella bombolona questa bombolona qua eccola qua che lei ha un bellissimo colore questa è la piccolina qua bombolona sì 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 beh mettiamola qua questa bella bombolona così poi abbiamo un'altra bella femmina più chiara che è lei sempre a pelo lungo sempre a pelo lungo bella 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 anche lei veramente bellissima che bel colore che ha questa bambina sempre a pelo lungo eccola qua questa eccola qua e poi abbiamo la Sally la Sally è micro la Sally rigugita il latte la Sally è veramente micro 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 la Sally è sempre a pelo lungo ma è proprio una topolina è una topolina piccolina piccolina la Sally Sally piccola piccola piccolina eccola qua guardate mettiamola qua con i fratellini paloma vieni paloma vieni palomina vieni